Altri 110 milioni di euro dal governo Draghi per mettere al sicuro le nuove tranvie e il nuovo stadio Franck. Lo rende noto il sindaco di comune e città metropolitana Dario Nardella. Tra le novità dei progetti verrà anticipato a fine anno l'inizio della gara per lo stadio e per la linea 4 verso Campi Bisenzio e l'affidamento dei lavori per la linea verso Bagno a Ripoli. Lavori per oltre un miliardo di euro. Per quanto riguarda la riqualificazione dello stadio, il governo oscente ha mantenuto le promesse per tener conto degli aumenti dei prezzi straordinari al fine di non bloccare le opere finanziate con il PNRR ha stabilito di incrementare i fondi a disposizione per la realizzazione delle opere. Lo stadio, già finanziato con 95 milioni di fondi PNRR del Ministero della Cultura e per 55 milioni dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei piani integrati città metropolitana, potrà infatti avere un incremento delle risorse a seguito del decreto aiuti TER e del TPCM pubblicato nel settembre scorso che disciplina le modalità di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Con l'articolo 29 del decreto aiuti TER pubblicato il 23 settembre scorso è stato riconosciuto il 15% in più del finanziamento originario del Ministero della Cultura e quindi oltre 14 milioni di euro di aumento. Per quanto riguarda il finanziamento del Ministero dell'Interno è previsto invece di chiedere l'incremento dei fondi tramite una procedura da attivare entro il 17 ottobre già richiesta dal Comune per un ulteriore finanziamento fino a un importo massimo di 15 milioni e 400 mila euro. Il Ministero dell'Economia e Finanze definirà entro il 16 novembre la somma effettivamente assegnabile sulla base delle richieste ricevute. Sono quindi tra i 20 e i 30 milioni di euro gli ulteriori finanziamenti totali sullo stadio. I fondi integrativi dovranno essere utilizzati solo per l'aumento dei costi delle lavorazioni e solo per le procedure avviate entro il 31 dicembre del 2022. È per questo motivo che il Comune di Firenze anticiperà i tempi e pubblicherà la gara per la realizzazione dello stadio entro tale data utilizzando la procedura ristretta prevista dal Codice degli Appalti. Per quanto riguarda le tramvie, oltre ai lavori in corso per la realizzazione della tratta Fortezza San Marco per un totale di circa 70 milioni, sono sulla rampa di lancio 900 milioni di euro di lavori. Le procedure sono state costrette a subire un'accelerata per non perdere risorse aggiuntive garantite dal Governo Draghi con il rifinanziamento straordinario degli interventi PNRR. La linea 4.2 Piagge-Campi-Bisenzio, il cui costo con preziario anno 2021 era stato computato in circa 250 milioni, rischiava di avere ristrettezze di finanziamento a seguito degli aumenti straordinari verificatesi negli ultimi 15-18 mesi. Il finanziamento era stato assegnato al Comune di Firenze, stazione appaltante dell'intervento, nell'ambito dei finanziamenti PNRR. Il Governo ha deciso la creazione di un fondo per l'avvio delle opere indifferibili e ha deciso di incrementare il finanziamento per le linee tramviarie per un importo pari al 20% del costo originario finanziato con fondi PNRR. E quindi per tale linea sono stati assegnati ulteriori 50 milioni, a patto che le procedure di gara siano avviate entro il dicembre di quest'anno. È partita dunque una corsa contro il tempo per poter bandire la gara milionaria entro l'anno, prevedendo un appalto integrato con alla base il progetto di fattibilità, richiedendo agli operatori economici interessati, oltre a realizzazione dell'intervento, anche la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva. La gara non avrà come oggetto solo la tratta 4.2 Piagge-Campi-Bisenzio, ma prevederà anche l'opzione per la linea 4.1 Leopolda-Piagge, sulla quale, in accordo con il Ministero, oltre ai finanziamenti già assegnati, saranno dirottati ulteriori 30 milioni di euro per completare il finanziamento necessario di oltre 200 milioni di euro. Una gara da oltre 500 milioni dunque che sarà bandita utilizzando lo strumento dell'appalto integrato. I nuovi finanziamenti però non finiscono qui, anche la linea 3.2.1, ovvero Libertà-Bagno-Arripoli, riceverà un finanziamento ulteriore per 30 milioni di euro, che sommandosi ai finanziamenti precedenti, alla quota prevista in finanza di progetto, definiscono un intervento di circa 400 milioni di euro. Ma anche in questo caso i finanziamenti extra saranno garantiti solo se le procedure di affidamento saranno definite entro l'anno. Per questo motivo il Comune di Firenze sta serrando i tempi. Il progetto definitivo già approvato in conferenza dei servizi sarà deliberato in giunta rapidamente, per passare poi all'approvazione del Consiglio Comunale. Nel frattempo sono in corso di definizione le modalità di affidamento a tram S.p.a. della realizzazione dell'opera. Tale tratta era infatti prevista nell'originario project financing e quindi non è necessario attivare una gara di lavori per l'affidamento dell'intervento.